Ammortizzatori sociali per tutti e quanto disposto nel protocollo di sicurezza nei luoghi di lavoro. Dopo un giorno e una notte di confronto tra governo, sindacati e industriali, si è raggiunti alla firma con soddisfazione di tutte le parti sociali. La priorità all'economia, l'attività produttiva delle filiere italiane, ha dichiarato il premier Giuseppe Conte, non può essere interrotta in un contesto economico già difficilissimo. Secondo quanto previsto dal protocollo, ai lavoratori di ogni stabilimento sarà fornito gratuitamente un kit per la sicurezza, compreso di guanti e mascherine. Le aziende inoltre possono far ricorso agli ammortizzatori sociali e quelle che non sono pronte a mettere in sicurezza i posti di lavoro dovranno fermarsi per qualche giorno. Il sistema produttivo però non si arresta, non solo quindi quello che fornisce beni di prima necessità. Nelle prossime ore intanto è atteso il decreto salve economia. Nel pacchetto inizialmente previsti 4 miliardi, poi il raddoppio a 7 miliardi e mezzo, ma la somma stanziata potrebbe arrivare a 15 miliardi, facendo alzare l'asticella del deficit fino al 2,8%. Per quanto riguarda il fisco, si sta lavorando allo stop dei mutui, ma solo per i redditi più bassi. E a partire da oggi, comunica l'Enac, 9 aeroporti italiani limiteranno la propria operatività, ma tra questi non c'è l'aeroporto d'Abruzzo.